Non c'è il rischio di commissariamento, Banca Italia è dalla nostra parte. Sono le frasi pronunciate nelle intercettazioni pubblicate da fanpage riguardo la crisi della Banca Popolare di Bari. Negli audio si distinguono Gianvito Giannelli e Vincenzo De Bustis, rispettivamente presidente e amministratore delegato dell'Istituto Pugliese, mentre rassicurano i manager della banca. Ci appoggia il mondo politico e ci appoggia anche la vigilanza, dice Giannelli. Per ragioni strategiche altissime qualcuno ha deciso che la banca debba sopravvivere, continua De Bustis. I due si riferiscono al Ministero del Tesoro e a Banca Italia, che attraverso l'iniezione di un miliardo di euro attraverso il Medio Credito Centrale e il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, avrebbero dovuto mettere in sicurezza il patrimonio dell'Istituto. Questo scambio di battute risale a tre giorni prima che il Consiglio dei Ministri decidesse il commissariamento, 5 prima che si decidesse il salvataggio della banca con un esborso complessivo di 900 milioni. Quando arrivai per la prima volta, continua poi De Bustis, chiesi dati delle filiali, tutti truccati, truccavate perfino i conti economici delle filiali. Questa banca, conclude l'amministratore delegato, è un esempio di cattivo management, irresponsabile ed esaltato. Nel frattempo il Codacons si scaglia contro Banca Italia, con tanto di esposto presentato alla procura di Teramo, perché si verifichi che la banca centrale non sia colpevole di omessa vigilanza. Non solo, il Codacons chiede anche il sequestro della documentazione affinché emergano i nomi dei predatori dell'Istituto Pugliese, quelli cioè in debito con la banca, per far luce sulle condizioni e le garanzie dei prestiti erogati. I prestiti senza garanzie e crediti deteriorati, infatti, sarebbero stati anche la causa del commissariamento della Tercas nel 2012, che fu poi acquisita dalla Banca Popolare di Bari. In pochi anni l'Istituto Pugliese ha perso il 90% del valore delle sue azioni e oggi le ripercussioni potrebbero essere sui risparmi degli oltre 70.000 soci.